Siamo qui con Enzo Fischietti, direttamente da Made in Sud, che risponde all'appello per Don Orturo Donofrio, anche lei qui a questo evento. Sì, l'evento è storico e non potevo mancare, poi quando si tratta soprattutto di partiti di beneficenza sono sempre presenti, oggi non invece di professore ma di arbitro, è finito il primo tempo ed è andata bene, voi sapete che per l'arbitro è sempre un pericolo, uno si tiene sempre pronto a scappare negli spogliatoi, speriamo bene anche nel secondo tempo. Un arbitro buono sicuramente oggi, ma io l'ho fatto per tanti anni, sono anche andato avanti nelle varie serie, non sono arrivato ai vertici, però mi divertivo, l'ho fatto sempre con passione. Ne la ringraziamo, grazie per essere qui, un saluto a tutti i lettori di Street News. Sì e soprattutto vi auguro lo stesso share della vita in diretta tutti i giorni su Rai 1, 37% dati Auditel. Benissimo, perfetto, grazie, grazie mille. Grazie a tutti i giorni.